Molte persone sono convinte che per arredare casa sia sufficiente inserire qualche mobile esteticamente bello qua e là. Prendo una libreria incantevole, un divano colorato, li piazzo in qualche punto strategico e il gioco è fatto. In realtà non è proprio così semplice come sembra. Infatti arredare non significa solo fornire alla tua casa qualche mobile o su pellettile secondo il tuo gusto personale. Significa piuttosto costruire un ambiente che ti rappresenti e rispecchi te stessa in ogni dettaglio. La casa va costruita ed arredata intorno a te perché ne sarai il cuore pulsante. Solo così potrai finalmente dire di sentirti davvero a casa. Ma è così facile da fare? Vediamolo insieme! Immagina quanto sarebbe bello tornare a casa e sentirti parte di un ambiente che rappresenta al meglio la tua personalità ed i tuoi gusti. Un sogno non credi? Tuttavia raggiungere questo risultato, come ti dicevo all'inizio, non è così facile come sembra. Probabilmente sarai convinta di avere ben chiaro in testa quali sono i tuoi gusti e magari avrai già un'idea di come sarà il risultato finale che vorresti avere. Ma sei davvero sicura di avere le idee ben chiare? Io mi diverto spesso a fare un gioco con i miei clienti, ovvero li faccio andare su internet e digitare queste due parole. Palette, colori. Il risultato è un'infinita varietà di tavolozza di colore con accostamenti più disparati. Quindi chiedo sempre di sceglierne almeno tre e di descrivermi le sensazioni che provano per ogni accostamento di colore. Tu non hai idea del numero di clienti che si è ritrovato ad apprezzare stili e colori completamente diversi da quelli presenti nelle loro convinzioni iniziali. Quasi nessuno sceglie sempre gli stessi accostamenti di colore e quando i colori sono diversi non è facile creare la giusta armonia tra gli stessi. Bisogna riuscire a trovare il giusto equilibrio tra i vari ambienti in modo che ogni colore sia in grado di generare sensazioni diverse senza prevaricare sugli altri. Probabilmente anche tu potrai trovarti nella situazione di avere preferenze variegate, sia in fatti di colori che in altre cose. D'altronde è ben difficile che ti possa piacere solo una tonalità, un po' come ti dicevo in un altro video a proposito degli stili. È infatti poco probabile che uno stile unico riesca a rappresentare al meglio te stessa e si adatti perfettamente ad ogni ambiente della tua casa. Per questo potresti trovarti di fronte al problema di essere attratta da un gran numero di stili o combinazioni di colori diversi e non essere in grado di scegliere quello che davvero rispecchia te stessa. Potresti scegliere la combinazione che così sui piedi ti sembra più adatta oppure optare per un mix delle cose che ti piacciono di più. Ma così facendo avresti davvero la certezza che il risultato finale ti rappresenti davvero? Arredare casa è un'operazione delicata, stiamo parlando dell'ambiente in cui vivrai. Arredarlo seguendo l'istinto o cercando di fare una media delle cose che ti piacciono non rappresenta la scelta migliore e credimi. Il rischio è quello di trovarti a vivere in un ambiente che potrebbe rappresentare una fase della tua vita ma che non è il riflesso di quello che sei davvero. Mi dicono spesso che sono una persona molto empatica. Ti confesso che avevo preso in considerazione l'idea di studiare psicologia. Ora, il mio compito non è quello di psicanalizzarti, ci mancherebbe altro. Tuttavia, la componente psicologica quando si tratta di arredare casa riveste un'importanza di primissimo piano. Per questo dedico sempre molto tempo alla conoscenza del cliente, non solo per quello che riguarda i suoi gusti infatti di arredo. Ti dirò di più, quelli vengono sempre in una fase successiva e saranno la naturale conseguenza della sua personalità. Per questo mi interessa prima di tutto capire chi sei per poterti aiutare a realizzare la casa dei tuoi sogni. Perché arredare in fondo non è così difficile, ma arredarla sulla misura della tua personalità non è per niente facile. Se vuoi che ti dia una mano a capire quali possano essere le soluzioni più giuste per te e la tua casa, ti basta mandarmi un messaggio. Trovi i miei contatti in descrizione. Sono sempre a tua disposizione per ogni curiosità. Ti è piaciuto questo video? Allora iscriviti al mio canale se non lo hai ancora fatto e resta aggiornato. Se poi vorrai farmelo sapere con un like o con un commento io ne sarò ben felice.